Una piazza trasformata per beneficenze in una grande sala da ballo, una conclusione in grande stile per il Teleton Catania 2023, il servizio di Letizia Vella. La piazza di Nanzile Teatro Vincenzo Bellini trasformata in un salone delle feste a ritmo di balzer, si improvvisano i primi passi guidati dal maestro e direttore della Compagnia Nazionale di Danze Storiche Nino Graziano Luca. Ho fatto il topo da biblioteca per 35 anni e oggi vedere che sono in tanti ad appassionarsi, ad essere ammaliati dalla danza storica, veramente, se me l'avessero detto tanti anni fa sarebbe stato per me incredibile. Eleganti donne in ricche miso ottocentesche, uomini in abito scuro insieme a catanesi e turisti, tra loro anche 16 ragazzi del liceo coreutico Angelo Musco di Catania. Indossare quest'abito mi fa sentire sia una ragazza dell'Ottocento sia una ragazza d'oggi. L'occasione è la raccolta fondi Teleton che quest'anno in città ha raggiunto quota 22.000 euro da devolvere alla ricerca.